segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io no no per carità io io non ho parlato con il giornalista che ha scritto l'articolo quindi quello che lui ha scritto l'ha scritto avuto non so quali siano emiliano fitti emiliano fittipaldi ha anche un'antica conoscenza con le stanze del vaticano quindi immagino che sia più venuta da lì la sua informazione cita alcuni fatti precisi eccetera quello che io voglio dire che la mia posizione di atlantista è nota dall'inizio di questa guerra non è una posizione che dice io sono come dire ritengo profondamente stupido dire che bisogna eliminare putin cosa di questo genere no le trovo ridicole detto questo nonostante il presidente attuale americano mi faccia orrore io ritengo che si debba essere atlantisti sempre comunque meglio il peggior presidente americano che miglior autocrate russo detto questo io non credo non credo che la posizione assunta da salvini sia una posizione filo russa sono in questo sono d'accordo con con santoro ho sentito la coda del suo discorso è soltanto pure sulle cacchiate che ha fatto prima del accordo per capire così ci chiariamo le idee definitivamente vorrei precisare quello che io penso del leader ma del personaggio politico matteo salvini così mi cogliamo l'occasione io sono una sua amica gli voglio bene lo rispetto e lo stimo gli voglio soprattutto bene perché gli voglio bene anche nelle molte occasioni in cui non siamo stati d'accordo il governo draghi il sì al green pass e al vaccino obbligatorio non siamo stati d'accordo ora alcune sfumature solo sfumature sulla guerra non il desiderio di pace io gli voglio bene perché lo ritengo l'unico o comunque uno dei pochissimi leader politici italiani non affetti da cinismo cronico e in questa fase della politica internazionale piena e affollata di leader mediocri appena decenti questa mi pare una grande qualità cinismo cronico è quello che affligge i leader politici quanti di tutto il mondo me la spieghi bene questo servini sognatore non è affetto forse le cacchiate le fa anche per questo per questa smania di fare cose di trovare soluzioni di andare a vedere io penso questo onestamente di lui la ragione per cui mi sono avvicinata a lui e poi ho conosciuto un sacco di una gente della lega che si fa un cuore così da mattina a sera chissà cosa ne pensano i grandi lavoratori i quelli della lega vedo il professor vittorio